Della coerenza cardiaca, cosa mi puoi dire? Allora Sonia, la coerenza cardiaca feci un bel corso con Oddio, come si chiama quello che l'ha inventata? Quelli della Heartmat Mi ricordo o no Tra l'altro comprai anche, e ce l'ho Ah, chissà dove sta soprattutto L'M-Wave Che è questo aggeggino che ti attacca l'orecchio Per misurare la coerenza cardiaca Ciò ho giocato per un po', non è male La coerenza cardiaca, se parliamo di coerenza cuoremente Se parliamo degli studi della Heartmat Io segui il corso con lui, dicevo E loro la usano su diversi ambiti Anche in ambiti militari, per esempio Cioè, un generale che deve prendere una decisione importante Dove ci sono rischi di appunto vite umane Una decisione la può prendere con l'ego La deve prendere con una coerenza cuoremente E questa coerenza cuoremente Tra l'altro non è che ci vuole Non è che ci vuole Così tanto poi a realizzarla Perché basta un po' di esercizi di respirazione Basta abbassare il ritmo respiratorio Fare delle respirazioni abbastanza lunghe Una cosa tipo da 5 secondi Per 5 secondi Una respirazione abbastanza lunga e profonda E le frequenze diventano Le frequenze cardinali diventano coerenti E il cuore e la mente si avvicinano In maniera, non che diventano che si avvicinano Cioè, diventano coerenti tra di loro E la decisione andrebbe presa in quello stato Che è fondamentalmente uno stato meditativo Insomma, non a caso La meditazione per eccellenza è l'attenzione sul respiro Quindi, basta che mediti 5 minuti Facendo osservazione sul tuo respiro E il tuo stato mentale si quieta Quindi in quel caso lì devi fare una decisione A volte le decisioni prese di impulso Ma lo so, l'ho visto io anche Cioè, le decisioni prese di impulso Di ego Di momento di embolo che te parte Non sono mai tanto valide Perché sono gestite da dei bisogni primordiali Da degli impulsi primordiali Invece una decisione ragionata Come appunto deve essere quella di un generale Quindi una decisione strategica Va fatta in uno stato di coerenza Per cui Grazie a tutti Grazie a tutti